Ok, ho visto che hai iscritto che mi hai iscritto, mancano 6 ciambelle, possiamo fare il prossimo obiettivo, ha ragione Gianmarco, non ce li ho i calli comunque ragazzi, sono super curati, ogni mese vado a farmi i piedi, dai Revolx così facciamo il prossimo obiettivo. Il mio profumo preferito, Sandro, sono più quelli forti di Damaschio, mi piacciono più profumi forti, va bene Alessio, va bene, dopo quando finisco la live rispondo ai messaggi. Grazie, stiamo arrivando alle ciambelle. Da lunghe dia, ma è stato? Ciao Carmine. Va bene lì, ma fai scienze ed educazione anche tu. Come ti chiami? Giorgia, questo è il mio vero nome. Mi saluti? Ciao Pietro. Sono single, sì ragazzi, single al 100%, ormai mi sono lasciata 5 mesi. Sì, cosa studi Lima? Di che anno sei 98? Abbiamo raggiunto l'obiettivo. Di dove sei? Di Milano. Grazie, vado, vado a Milano. Vivo a Milano. Cosa studi Lima? Grazie per il cuore. Cristiano è bellissimo. Alessandro, un bacio. Non lo so dove sia, Antonio. Dove si trova? Sì, Revolux, vediamo un po'. Grazie Carmine, sono verdi, non so se lo notate. Allora Alessio, provo a leggere, certo. Non voglio snobbare nessuno, non vi preoccupate. Giorgia, fate vedere Maurizio, te li sei persi? Ok Alessio. Va bene. Bello, bello Lima, molto bello. Sì, Revolux, va bene. Faccio il primo piano, vediamo un po' se raggiungiamo le rose. Ok Antonio. Un regalo per Revolux. Cosa vuole? Vediamo un po'. Babbo Natale, dovessi fare i regali tu. Cioè, supera un po' Revolux. Che obiettivo facciamo Revolux? Vediamo un po'. Vai, va bene Lima. Pianti per tutta la live. Fa sorridere questa cosa. Allora non sei un Babbo Natale, non sei un fake. Allora, cosa facciamo Revolux? Grazie, Jacob. Cosa farei stasera? Sarò in live, ragazzi. Facciamo smalto, va bene. Lo smalto. Mi lo cambierò nei prossimi giorni. Lo farò rosso. Sì, Cristian, che pirata c'è? Vediamo un po'. Grazie per le rose. Grazie mille. Allora, vediamo un po'. Sì, Cristian, ci sta. Ma tu di che zona sei? Piante, piante. Di dove sei? Per domenico io sono di Milano. Già, di dove sei Massimo? Io sono di Milano, zona San Siro. Ah, ok, va bene. Non siamo tanto distanti, Cristian. Ok. Io Cagliari. Non sono mai stata a Cagliari. Mai. Dico sì. Sai che non ci avevo mai pensato a questa... di screen. Ciao, Moby. Ciao, Teo. Sono di Milano. Di che zona? Buongiorno, Luca. Sì, dopo stacco e rispondo a tutti. Sì, Blare. Buon pomeriggio. Sì, Bled, my lady. Grazie, Luca. Mi mandi un bacio. User, ti mando un bacio. Se mi dici come ti chiami, dico anche il tuo nome, che è meglio. Va bene, Cristian, certo. Un saluto da Pescara. Il mio ex era di Pescara. Se volete saperlo. Ma non sono mai venuta. Sì, Amza, poi rispondo, davvero. Sì. Ti aspettano. Ciao, Michael.